Guardando una vecchia serie poliziesca, probabilmente un maigret, a un certo punto nei primi anni 80, mentre ero in convalescenza dalla mononucleosi, una malattia vissuta più come convalescenza che vera e propria malattia, mi sentivo come se stessi semplicemente rimettendomi da qualcosa, piuttosto che avere anzitutto qualcosa da cui veramente riprendermi. E improvvisamente capì un ladro che infila una chiave nello stucco per trarne la sagoma in modo da poterla copiare per poi svaliggiare la casa. Quella era la memoria, mi resi conto. Uno stucco malleabile con il quale si poteva produrre un'altra chiave che avrebbe aperto la stessa porta, ma mai con la stessa facilità. In un attimo potevi svaliggiare il tuo passato con la chiave un po' difettosa che sempre ti lasciava entrare, anche se c'era sempre meno da portar via.